Benvenuti a tutti ragazzi, quest'oggi siamo su Fortnite con mis amigos, Nick e Ciccio. Ciccio, oggi giocheremo una bellissima creativa, un tutti contro tutti, io faccio cagare mentre i 2 sono fortissimi, eeeh, via, i ciccio erano un ragazzo un po' meno fortissimi, non mi si vengono a me, io so mai, nooo, lo volevo uccidere io, oddio, u l'ho fattuto, no, 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 non riesco a salzare, vai, non mi tiriamo, mi tridete come un porcellino, ma mi sentite, non l'ho capito, ma mi sento, no, 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 ah, ok, ciccio, ma parla di qualcosa, c'ho, c'ho qualcosa, oddio, ciccio, non c'è queste cose, parlate ragazzi, è il cavolo, eh va bene, faccio il tot tanto, guarda che si fresca, da 5 due 2 vai il 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 c ora il il non il maestro il 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 la matata io no sì dai non lo so messo male e va bene e va bene non ho mai ridato non so parla non farei brutto che ti vergogli e niente parla di qualsiasi cosa però non fischiare il microfono 185 ok se mi uccidevi e fischia non fischiare ma vabbè e la voce eccola uccia orta eh vabbè gg se bastardo virgo miseria virgo miseria virgo e niente spada ma che cavolo stai facendo ok ok ora ma dai oh tu sei uno che troppo fischia nel microfono ok 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 tutto ok no cicci esagerato sto mi stico mi sto ticcolando sto ticcolando mi metto qua mi metto qua vedo questo vai si dicono Ma nel video non te lo tesuro no? Tanto che tu e tu mi guardi Ma che nessuno mi ha visto Sì, è dietro, dietro di cacava No, io faccio la robetta Non è niente No, ma dai! Non ti credo Oddio, oddio mio E niente, ho guidato il piramide Per quello di spedizione Cosa sta succedendo? Non ci sapo di tenere Non ci sapo di tenere Oddio, oddio mio Eeeh Dai 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 No, 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 no Sì Oddio, ci c'ho esso Madonna mia Madonna mia Madonna mia Madonna mia Se non esco vivo C-42 C-42 Nooo Ma dai Maledetto Tempo di ricarica No I got E niente E niente Buono da me giusto, però C-42 No Io vado la Chi è? C-41 Nooo Non è vero Non è vero Ma dai Io ora mi cerchi la distanza e vabbè Canto Canto No, non devi romperci No, non ci capis Oh, chi è? Chi è? Ma dai Mi attacca un'intrega E' assurdo E' assurdo Guardate, c'è un tifo dad Vedete l'amicizia ciccio C'è un tifo dad No, vincorate No, no, no Non ci provare, non ci provare Mi vuole piccolare Bravo, bravo, distrullo E' niente, vabbè, io ho 890 Dai Eh, però poi si è regenerato E' tpp forte 30 Cosa sta succedendo alla mia pistola? Ma cos'è? Aia No, ma dai Ma sto perdendo sempre questo qua E' niente 32 Eh, vabbè, però ci siamo Un po' più, un po' più, meno lieve Adio Ma sei mio No Ah no Non te l'avevo fullboxato Mi sento più Sì, perché Volevo saltare in alto Invece sto saltando Davide Dall'altra parte, dai Sì Sei in Grande Nick Ah 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 scappo 114 guarda ora me lo scambio luto da 30 anni cacchi e tu quanti aia no 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 questo è fatto male no è vabbè e vabbè mi spieccado qua cerco di cerchinarli ma fa un bagno però c'è no non è più difficile oh no senza pietà montare sto video sarà la roba più difficile del mondo ok dai 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 no ancora se è al gioco basta come si eh nick cinque cento cos'è? che c'è cinque cento cinque cento cinque cento no stavo un ottimo in trance e niente e niente e niente e niente e niente uff ma infatti sono qui ho detto nicolò se voglio potere suizio questo è questo è questo è un po' di merlas no nick 5 milioni e questo video fa 20 likes e questo via di... oh ma che c'è me lo vuoi? eh dai perché ti sei tirato mi sono spaventato i tuoi spaventato mi sono spaventato io mi sono tipo di raffa c'è una via di vita eh dai forse l'ha scalato forse l'ha scalato siiii c'è 51 51 siiii oh mio dio la remontata la remontata 168 ho avvistato a 41 ho avvistato a 41 torroncino torroncino aia 30 69 dai no no non rompere sa è lo spider della vita vabbè vabbè chiesa io devo andare vabbè per questo video ci fermiamo così ci vediamo al canale ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao